Cari amici, cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni Titolo del video, Serafino Massoni come una biblioteca Non l'ho inventata io questa locuzione Il fatto è che mi ha scritto questo signore Lo vedete? Si legge, vero? Cesare Genga è il nickname di uno che ha un canale su Youtube, capito? E quello che questo signore mi ha scritto Lo trovate in calce nel mio video Il Buddha è l'aldilà Si effettivamente è un video che mi è venuto bene E' uno dei miei, mi pare, oltre 3000 video 3000 Ripeto, il Buddha è l'aldilà, capito? Il video è intitolato Il Buddha è l'aldilà E questo signore E mi ha scritto il messaggio che ora vi leggo Ma poi voi, se non vi fidate di me, potete andare a leggerlo in calce al video Il Buddha è l'aldilà Dunque, caro professore Ieri sera ho iniziato a vedere alcuni dei suoi video su Buddha E devo dire molto, tra virgolette, devo dire molto illuminanti Se mi passa il termine Mia moglie è tailandese Dio, caro che bella esperienza che hai fatto Caro, va bene Mia moglie è tailandese Quindi buddista teravada Dalla nascita La moglie di Cesare Genka E' buddista teravada Dalla nascita E in un certo qual modo Lo vivo in prima persona Cioè il buddismo teravada Questo signore lo vive in prima persona E adesso arriva qua il clou Che ha dato il titolo a questo mio video Sinceramente Vedendo che lei ha più di 3000 video Più di 3000 video qui su Youtube Mi sembra quasi di entrare in una grande biblioteca La differenza è che grazie ai suoi video Posso godermi tranquillamente questo insegnamento Comodamente sul mio divano Grazie Io ringrazio te, caro amico Caro amico Ah, ripeto Quello che vi ho letto E' un commento di Cesare Genga O Genga Genga E' scritto in calce al video Il Buddha è l'aldilà Capito? Il Buddha è l'aldilà Sì, è rimasto impressionato L'amico Dai miei oltre 3000 video Ma io ho avuto Già occasione di dire Che qualsiasi argomento Voi Vogliate conoscere Basta che digitate Digitate Sul mio canale Sul mio canale Digitate L'argomento Dall'Itali E vi salta fuori il video Fatto posto per voi Capito? Guardate Scusatemi se mi permetto Ma una volta mi scrisse Uno E ci ho fatto pure un video Mi scrisse uno Tutto incazzato con me Tutto incazzato E mi disse Scusate il termine Porco Porco Ma pure se Se io digito Su Google La parola Merda Salti fuori tu Serafino Massoni Capito? Vabbè scusatemi Mi scrisse pure così Proprio così Quel caro amico Io ci fece un video Ci fece Non ne ricordo il titolo Va bene cari Mi fermo qua Serafino Massoni Come una biblioteca Questo signore Che deve essere Di una notevole cultura E anche di notevole Esperienza esistenziale Perché avete visto Si è sposato Con una tailandese Teravana E questa signora Ha detto una cosa Semplicissima Sinceramente Sinceramente Vedendo che lei Ha più di 3.000 video Qui su Youtube Mi sembra quasi Di entrare In una grande biblioteca La differenza è Che grazie ai suoi video Posso godermi Tranquillamente Questo insegnamento E comodamente Sul mio divano Va bene cari amici Ringrazio Cesare Genga Ringrazio tutti voi E a tutti voi Tanti saluti Da Serafino Massoni